salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi ci dedicheremo a un primi passi all'uncinetto per imparare insieme la tecnica c2c corner to corner da angolo ad angolo quindi è una tecnica di lavorazione che permette di lavorare partendo dall'angolo e poi lavorando in modo obliquo infatti se vedete qui abbiamo l'uno il 2 è questo così il 3 è così si lavorano i tre quadretti il 4 4 si lavora in diagonale sicuramente ideale per fare tantissimi progetti io non ho in mente già uno che vi voglio portare sul canale che possono andare dall'abbigliamento ma è ideale per fare delle coperte dei played per fare delle presine per la cucina dei cuscini e quant'altro prima di iniziare la lavorazione vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina facebook e la mia pagina instagram passione uncinetto e lì cercherò con delle storie dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali e ci mettiamo subito al lavoro per farvi vedere la tecnica di lavorazione ho pensato di utilizzare questa lana lurex e la lavorerò con uncinetto numero 4 quindi siamo pronti prontissima ad iniziare questo seguendo questo schema quindi non solo faremo la lavorazione ma impareremo insieme a leggere lo schema e quindi a farla insieme con lo schema partiamo da un cappietto che non conteremo stringiamo e partiamo la lavorazione con 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 sono queste 6 catenelle queste qua ora le prime 3 catenelle le contiamo come maglia alta filo sull'uncinetto entriamo nella quarta catenella e lavoriamo la prima maglia alta nella catenella successiva la seconda maglia alta e nell'ultima la terza maglia alta quindi tre catenelle e le tre maglie alte guardate qui giriamo così la lavorazione e abbiamo ottenuto il nostro primo quadrato ora dobbiamo fare la riga 2 ossia questo quadratino e questo quadratino cosa facciamo giriamo il lavoro e facciamo le sei catenelle 2 3 4 5 e 6 filo sull'uncinetto entriamo nella quarta catenella e lavoriamo la prima maglia alta la seconda maglia alta e la terza maglia alta qui abbiamo fatto il primo quadratino del secondo giro ci chiudiamo qui guardate dove ci sono le tre catenelle iniziali del giro precedente entriamo qui dentro e ci chiudiamo con maglia bassissima nello schema è evidenziata con questo puntino da qui ci rialziamo con 3 catenelle 1 2 e 3 e lavoriamo all'interno delle 3 catenelle del giro precedente le 3 maglie alte 2 e 3 guardate abbiamo terminato il secondo giro abbiamo fatto il primo e il secondo proseguiamo voltiamo il lavoro facciamo 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 entriamo nella quarta catenella e facciamo la prima maglia alta la seconda maglia alta e la terza maglia alta quindi abbiamo formato il nostro primo quadratino del terzo giro guardate ora dobbiamo andare a questo quadratino qua perché in questo giro faremo tre quadratini qui abbiamo il puntino che ci evidenzia andiamo qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle del giro precedente entriamo e ci chiudiamo con maglia bassissima 3 catenelle entriamo sempre in questo spazio e lavoriamo 3 maglie alte 1 2 2 e 3 entriamo sempre qui dove c'è ci sono le 3 catenelle del giro precedente sempre con maglia bassissima 3 catenelle per rialzarci e lavoriamo 3 catenelle 3 maglie alte quindi le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta e si fa così per tutti i giri guardate abbiamo terminato il terzo giro 1 2 3 ed è questo 1 2 e 3 il quarto giro si inizia sempre inizio giro con le 6 catenelle perché per ora in questo momento stiamo facendo degli aumenti quindi se voi guardate tutti gli inizi sono voltando il lavoro e iniziando direttamente con le 6 catenelle 3 4 5 e 6 andiamo sempre nella quarta catenella e facciamo la prima maglia alta poi facciamo la seconda e facciamo la terza nell'ultima catenella qui ci ritroviamo il nostro quadrato andiamo qui dove ci sono le 3 catenelle del quadratino entriamo e ci tiriamo il filo con maglia bassissima 3 catenelle e nel nello spazio quindi nelle 3 catenelle lavoriamo sempre 3 maglie alte 1 2 e 3 qui abbiamo l'altro archetto quindi l'altro quadrato andiamo sempre qui dove ci sono le 3 catenelle maglia bassissima e ci chiudiamo con maglia bassissima e ci chiudiamo con maglia bassissima facciamo 3 catenelle e lavoriamo 1 2 3 maglie alte entriamo sempre qui dove ci sono le catenelle maglia bassissima facciamo le 3 catenelle e lavoriamo 1 2 e 3 maglie alte e abbiamo terminato il quarto giro guardate se io lo appoggio combacia perfettamente con il grafico comunque stiamo lavorando questa tecnica che come vedete è semplicissima la lavorazione parte sempre dal lato dove arriviamo girando il lavoro con le 6 catenelle si lavorano le maglie poi nella parte centrale come vedete qui c'è il grafico che ve lo mostra è sempre la chiusura nelle catenelle quindi dove lo facciamo noi qui dove c'è lo spazietto la chiusura con maglia bassissima il rialzo di 3 catenelle in tutta la parte centrale alla fine si termina sempre con le 3 catenelle e le 3 maglie si gira il lavoro e si ricomincia facciamo un altro un'altra riga insieme quindi per farvi un po' vedere nel grafico dobbiamo fare la quinta riga che ad esempio è questa 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 e questa quindi in questo caso ci sono 1 2 3 4 e 5 quadrettini quindi vedete siamo qui voltiamo il lavoro e facciamo 3 6 catenelle facciamole insieme entriamo nella quarta catenella quindi 123 nella quarta facciamo una maglia alta seguita da un'altra maglia alta seguita da un'altra maglia alta entriamo qui abbiamo la lavorazione entriamo direttamente nello spazio delle 3 catenelle del giro precedente maglia bassissima 3 catenelle entriamo nuovamente in questo spazio e lavoriamo 3 maglie alte 2 e 3 entriamo direttamente nell'altro spazio maglia bassissima 3 catenelle e 3 maglie alte quindi la lavorazione si ripete giro dopo giro fino ad arrivare alla parte centrale dove poi dobbiamo fare delle diminuzioni per ottenere poi il quadrato finale della lavorazione e ora lo facciamo insieme terminiamo questa riga 1 2 e 3 entriamo nell'ultimo spazio con maglia bassissima facciamo le tre catenelle e nell'ultimo spazio lavoriamo tre maglie alte 2 e 3 perfetto qui abbiamo terminato vedete 1 2 3 4 e 5 la quinta riga se lo mettiamo qui stiamo creando il nostro quadrato questo punto è molto bello anche con il cambio colore che vi volevo fare anche vedere prima di continuare con la nostra lavorazione quindi prendiamo ora un altro colore e vi faccio vedere l'inserimento sia nella parte iniziale e sia durante la lavorazione interna così che già sapete che in base ci sono tantissimi schemi su internet di questa tecnica c2c potete prenderli fare veramente dei bei disegni nel vostro nella vostra lavorazione delle coperte con magari un disegno particolare all'interno quindi prendiamo l'altro l'altra lana e vi farò vedere come si inserisce per inserire in questo caso io ho preso un rosso anche se è più fine come lana a noi ci interessa solo l'inserimento farvi vedere come si inserisce per inserirlo nel giro successivo cosa dobbiamo fare scusciamo proprio un punto è la maglia alta finale che abbiamo fatto risulterà lavorata a metà senza l'ultimo gettato prendiamo il colore da inserire in questo caso è rosso lo portiamo nelle asoline voltiamo la lavorazione e iniziamo direttamente la lavorazione delle sei catenelle 3 4 5 e 6 entriamo nella quarta facciamo la maglia alta facciamo la successiva nel punto successivo e facciamo la terza maglia alta entriamo direttamente qui dove abbiamo lo spazietto e ci chiudiamo con maglia bassissima 3 catenelle e lavoriamo 3 maglie alte come abbiamo fatto finora con il nuovo colore andiamo sempre qui nello spazio e ci chiudiamo con maglia bassissima e ci lavoriamo le tre maglie alte 1 2 e 3 guardate qui abbiamo inserito il colore direttamente continuiamo sempre con la stessa lavorazione 3 catenelle e di nuovo le tre maglie alte 3 catenelle e 3 maglie alte qua ci chiudiamo sempre qui alla fine maglia bassissima 3 catenelle 3 maglie alte abbiamo terminato la riga numero 6 con 12345 e 6 quadretti e questo è stato il nostro cambio colore a inizio riga se questo cambio lo dobbiamo fare al centro dobbiamo continuare a lavorare allora possiamo anche scucire la parte che abbiamo appena fatto e quindi vi ho fatto vedere l'inserimento e inseriamolo a metà lavoro quindi scuciamo insieme questo inserimento che abbiamo fatto e proseguiamo la lavorazione con la nostra lana riprendo nelle asoline e rifaccio il punto volte il lavoro e faccio le 6 catenelle 3 4 5 e 6 lavoro sempre nella quarta mi lavoro le tre maglie alte 1 2 e 3 mi chiudo nel primo spazio 3 catenelle nello spazio successivo faremo l'inserimento del colore quindi mi lavoro questo quadretto e prima di chiudere scusate guardate prima di chiudere il quadretto prendo l'altro colore da inserire lo metto vicino e chiudo con il rosso mi porto qui e faccio la maglia bassissima e mi rialzo con le tre catenelle e continuo la lavorazione con il rosso guardate continuo con il rosso l'unica situazione di questa tecnica è una se ad esempio arrivati a questo punto che qui è rimasto il la lana che abbiamo lavorato finora quindi se io devo lavorare due di rosso e devo riprendere questo colore la lana che ho appena lavorato devo prendere un altro gomitolino che io vi consiglio sempre di farli prima se avete dei gomitoli più grandi oppure per questa tecnica utilizzare i gomitolini di 50 grammi devo prendere un altro gomitolo e iniziare la lavorazione per come vi ho fatto vedere nell'inserimento del colore perché questa tecnica ha bisogno di tanti gomitoli per quanti colori dobbiamo inserire anche lo stesso colore non si porta come la tecnica tapestry che faremo prossimamente si porta dietro e quindi si inserisce dopo questa si lascia dove si arriva proprio con la lavorazione si inserisce l'altro colore e poi eventualmente si inserisce l'altro gomitolino di colore questo è importante perché tante volte vediamo delle immagini anche su internet di lavorazioni e vediamo tanti gomitolini messi vicino magari a una lavorazione di c2c ed è proprio questo sono i vari colori anche uguali però ripresi in altri momenti ora che vi ho fatto vedere l'inserimento del colore durante la lavorazione possiamo continuare a lavorare questo lo scucio per una questione solo per farvi vedere le diminuzioni perché ora creeremo un quadrato quindi ora arrivate a un certo punto che nello schema è questo in questo caso arriva qua vedete che ci sono i tre puntini queste sono le diminuzioni finora abbiamo fatto gli aumenti ora faremo le diminuzioni quindi scuciamo questo mi lavoro questo pezzetto e ci rivediamo per continuare in questo caso ci fermiamo prima e fare il quadrato con le diminuzioni iniziamo così a fare le diminuzioni siamo arrivati alla fine del giro voltiamo il lavoro le diminuzioni ripeto si fanno nel punto centrale quindi quando arrivate proprio qui il disegno è così nella diagonale centrale questo 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 dobbiamo ottenere questi quadratini allora senza fare alcuna catenella entriamo direttamente nella seconda maglia alta facendo una maglia bassissima entriamo nella terza maglia alta maglia bassissima ed entriamo qui nello spazietto facendo una maglia bassissima facciamo le tre catenelle e iniziamo continuiamo la lavorazione delle tre maglie alte come abbiamo fatto finora quindi la diminuzione è data dalle maglie bassissime senza fare alcuna catenella iniziale 1 2 e 3 nella nell'archettino tre maglie bassissime tre catenelle e le tre maglie alte qui nel grafico vedete 123 3 maglie alte e si lavora il quadrato normale qui facciamo sempre la stessa lavorazione e ci rivediamo alla fine per fare la diminuzione finale arrivati qui alla fine dobbiamo fare la diminuzione da questa parte entriamo nell'archettino con maglia bassissima una catenella voltiamo il lavoro ed entriamo nella seconda maglia alta del quadrato facendo una maglia bassissima seguita da un'altra maglia bassissima e una maglia bassissima nell'archetto quindi tre maglie bassissime tre catenelle e ci lavoriamo e i quadretti per come abbiamo fatto finora tre maglie alte ci vediamo con maglia bassissima ora lo facciamo insieme perché questo piccola lavorazione ce lo permette facciamo insieme fino alla fine tre catenelle e catenelle qui dobbiamo solo stare attenti a dove ci agganciamo per la diminuzione perché in questo caso questa maglia non va lavorata perché dobbiamo diminuire quindi facciamo l'ultimo quadrettino che lo facciamo qua quindi le tre maglie alte e ci agganciamo a all'archetto all'ultimo archetto una catenella voltiamo il lavoro ed entriamo direttamente non nella prima ma nella seconda maglia alta con maglia bassissima maglia bassissima e maglia bassissima quindi tre maglie bassissime guardate come stiamo creando il nostro quadrato qui già siamo arrivati a 1 2 3 4 archetti come qui guardate ora ne creeremo 3 2 1 e abbiamo terminato la nostra lavorazione c2c quindi continuiamo insieme ci rivediamo quando faremo l'ultimo quadrettino arrivati qui a creare l'ultimo quadratino ho fatto la mia diminuzione e ora mi lavoro le tre maglie alte nell'archettino e mi chiudo qui nell'archetto con maglia bassissima abbiamo terminato la lavorazione abbiamo iniziato da qua e siamo arrivati quindi angolo ad angolo corner to corner spero che il video vi sia stato utile per capire questa tecnica di lavorazione che è molto molto bella e soprattutto molto semplice da fare vi avevo preannunciato che faremo insieme un progettino con questa tecnica se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina facebook facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace al video e condividetelo ed io vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi video appuntamento al prossimo video